Per le feste inoltre è stato trovato l'accordo nei giorni scorsi con i dipendenti ANM quindi ci saranno i prolungamenti notturni a notte di Capodanno? E il rigore quando l'arbitro fischi? Una cosa su problemi... No, no, nel senso me lo ha, no, però qua lo vedete, la notte d'arte vai per scendere poi ci sei convinto, anche il 7 dicembre eravamo convinti che c'è il prolungamento io sono sempre un ottimista, lo sapete, il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto però l'esperienza mi ha anche insegnato che questo è il momento in cui bisogna essere molto concentrati perché accadono anche sempre delle cose che, ripeto, una cosa è una coincidenza due coincidenze sono due coincidenze, tre coincidenze sono tre coincidenze quando le coincidenze incominciano a diventare troppe o devi fornirti, come dire, dei corni adeguati come questo alberello di Natale oppure devi incominciare a pensare che non sempre sono coincidenze noi lavoriamo per mettere in campo tutta l'iniziativa spirituale necessaria per evitare che ci siano troppe coincidenze Ma lei stava cercando di capire se non sono solo coincidenze? No, mi fermo qua, ho detto fin troppo, non mi chiedete quello che non posso dire Un anno lei diceva che ci saranno tantissime persone a Napoli Eh sì, abbiamo già il tutto esaurito Il tutto esaurito già anche per Capodanno? Dai dati che abbiamo sì, c'è bed and breakfast, alberghi, insomma è tutto pieno a Napoli e questo ci riempie di responsabilità anche e non solo di orgoglio Ecco, la gestione delle strade, la gestione proprio del flusso, come sarà? Devo dire che, lo dicevamo prima, lo sforzo che è stato messo in campo è forte cioè comunque le risorse economiche per garantire servizi aggiuntivi ci sono le risposte dei lavoratori nella maggioranza dei casi sono adeguate al di là di qualche singola circostanza io voglio ringraziare veramente i lavoratori di Asia, di Napoli Servizi, di ANM stanno facendo davvero un lavoro importante e lo faranno anche nelle prossime ore Asia sta facendo uno sforzo imponente in condizioni difficili io vorrei ricordare questo dato che lo dico in tutte le sedi l'ho detto anche nel comitato l'altro giorno alla presenza del ministro noi formalmente siamo un milione di residenti quindi dovremmo avere risorse per un milione di persone e non abbiamo risorse umane ed economiche per un milione noi siamo 3 milioni cioè noi in questo momento, oggi, il 18 dicembre nella città di Napoli, nell'arco di una giornata girano più o meno 3 milioni di persone tra campani che sempre di più si riversano e noi siamo contentissimi nella nostra città viaggiatori nazionali e internazionali quindi diventa uno sforzo enorme io ho visto il piano di Asia e uno sforzo enorme che so non essere sufficiente ecco perché i 5 passaggi quotidiani a Via Toledo che se uno me l'avesse detto qualche anno fa e avrei detto è un risultato clamoroso e credo che non raggiungeremo è molto poco rispetto, come dire, alle esigenze e quindi stiamo lavorando e anzi approfitto di questa conferenza stampa e di queste vostre domande per chiedere veramente l'ausilio e il sostegno ma anche le proposte dei commercianti delle categorie economiche perché con l'aiuto di tutti si può migliorare per esempio Via Toledo io lo trovo insopportabile che nonostante i 5 passaggi che ne so, alle 20, alle 21 è piena di rifiuti non perché Asia non funziona, i rifiuti non si raccoma perché i rifiuti cominciano a essere tanti da quelli che scendono dai quartieri ai commercianti quindi forse con l'ausilio un po' di tutti con qualche proposta con un maggiore senso di responsabilità da parte di altri io credo che si può fare insomma basta fare un esempio e la mattina quando vengo a lavorare non voglio citare per non fare né pubblicità né positiva né negativa c'è un noto esercizio commerciale che insiste su piazza municipio che la mattina lascia l'improbabile cioè che l'operatore di Asia ci mette un'ora solo per pulire quello che quell'esercizio commerciale ha lasciato là sotto vorrei ricordare che c'è un'ordinanza che impone noi le abbiamo multate più volte ma abbiamo talmente rimesso in modo l'economia di questa città che la gente guadagna 20 volte rispetto a prima che venisse De Magistris che evidentemente per loro pigliare 500 euro di multa li assorbono in 10 minuti allora questo diventa il tema dobbiamo arrivare a chiudere i locali? questa è la domanda l'ordinanza lo prevede ma sarebbe una sconfitta per tutti quando si ama Napoli significa avere quel senso di responsabilità che metti un dipendente che guadagna tu stai guadagnando un sacco di soldi la sera quando chiudi il negozio o la mattina pressa all'alba fai pulire davanti al tuo negozio sì l'operatore di Asia riesce a coprire una parte che è il centro della piazza dove non ci sono esercizi comunali cioè sono piccole cose che però danno quel senso di comunità che io mi appello al senso di responsabilità di tutti e se ci mettiamo tutti quanti insieme presenteremo una Napoli anche più decorosa un senso di appartenenza ecco sì sinceramente sì non bisogna solo aprire un negozio per guadagnare per superare tante difficoltà tanti commercianti lo fanno io devo dare atto c'è tante le proposte la stessa confcommercio e un'altra confcommercio rispetto a qualche anno fa dove c'era solo la corsa alla lamentela oggi invece c'è la corsa a proporre e questo è molto bello ne voglio dare atto quindi se ognuno ecco dal singolo esercizio commerciale al singolo cittadino ci prendiamo atto del fatto che Napoli in questo momento ha talmente tanta gente che sta portando economia cioè il turismo deve essere vissuto come un'opportunità cercando di eliminare gli effetti collaterali che anche ci sono in questo caso i soldi che stanno girando sono tantissimi migliaia e migliaia di famiglie napoletane si stanno sostenendo su questo qualcuno si sta anche profondamente arricchendo su questo allora non credo che stiamo chiedendo la luna se uno fa quello che deve fare perché è scritto nell'ordinario cioè di tenere pulito il negozio dopo che ha chiuso che ha chiuso il negozio ha chiuso l'attività di commerciale o di vendita di prodotti grazie grazie grazie